Nella solennità di Cristo Re durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Battista Picchiere e Arcivescovo di Trani Barretta Bisceglie il rito della dedicazione del nuovo Tempio della parrocchia San Pio da Pietrelcina. Una messa solenne che ha visto intorno alla mensa eucaristica riunito il clero diocesano e tantissimi fedeli e che è stata trasmessa in diretta sulla nostra emittente. Una chiesa grande che soggia a Margherita di Sevoia nel quartiere Isola Verde e Città Giardino una zona nuova in espansione della cittadina garganica un evento storico come ha dichiarato il parroco Don Roberto Vaccariello per una comunità nata nel 2003 la parrocchia Fuoretta il 23 settembre del 2003 che ora vede coronato il sogno di poter disporre di un luogo consono per il culto e la preghiera, per la pastorare e per l'oratorio. Importante luogo di aggregazione per un quartiere esteso che raccoglie un numero considerevole di fedeli soprattutto nuovi nuclei familiari e quindi tante famiglie. Alla sequela di Cristo, quindi, sorretti da Maria e guidati da San Pio da Pietrelcina che attraverso il suo esempio di umiltà, preghiera e penitenza potrà essere faro in luce per il nuovo cammino parrocchiale. Una comunità parrocchiale che potrà testimoniare l'amore autentico di Gesù che ha donato la propria vita per ognuno di noi e che continua ogni giorno a donarsi sull'altare attraverso il pane trasformato in corpo ed il vino in sangue. Una chiesa nuova, un tempio grande e bello in cui vive nel tabernacolo Dio in cui è bello ritrovarsi per incontrare Lui, il Salvatore fermarsi ad ascoltarlo in un silenzio orante fuori dai rumori assordanti del mondo un mondo irrequieto ed insoddisfatto alla continua ricerca di qualcosa che non trova mentre il centro del mondo e della vita è lì in un pezzo di pane, in un tabernacolo, in ogni chiesa che sempre aspetta il figlio e il prodico.